seconda stagione della prova del cuoco mancano poche ore ormai la festa del ringraziamento e il nostro chef vedete che ha la testa piena di idee per fare diciamo di cose da fare per questo per questa cena allora quanti sono gli invitati ma credo che sono una cinquantina e come diceva mio cugino quindi una cinquantina di persone allora ti stai vestendo elegante no io la ghida mia perché chiunque mi conosca non mi sono mai questa qui è la stessa asciugamanno che avevi quando siamo arrivati si dal 3 novembre si sta fredendo va bene allora che cosa ci preparerai odoriamo? no quello odoriamo? facciamo odorare i nostri spettatori tieni cosa preparerò? già lo sanno le lasagne perché le polpette ce le siamo mangiate ieri sera si e quindi niente quanto mi affreddo qua si arriva la gente vuole mangiare va bene allora stacchiamo diciamo ci collegheremo dopo quando si metteremo il treppiedi e quando ci sarà un po' di confusione faremo vedere un po' come funziona qua il party americano la festa di ringraziamento che c'è da ringraziare? ma ancora non l'ho capito in questo momento non abbiamo questo tipo di drink in italia ma è bello quando si mette le arti in italia dicono qualcosa ecco la lasagna di nico che è pronta questo esperimento chimico ormai è questo esperimento sembra ormai alla fine vediamo poi i risultati è un'altra teglia di lasagne sta per arrivare ecco che scotta ancora allora sei contento? vediamo ancora dobbiamo testarla però casomai ne manciamo state altre cose le polpette mi spiace che non ci sono perché le abbiamo mangiate ieri sera e allora ci sarà anche quest'altra sbombetta questa è una bella sbobba questa e quest'altra e non so che cosa sono è bene è il tacchino è il tacchino è il tacchino è il tacchino e nico che cos'è ma lo decampi? che cazzo non ce l'ho arbor miste ma we need the eh tu vuoi aprire queste due cose? eh Sergio ti voglio aiutare Sergio we need to open the bottle the bottle the bottle bottle yeah bottle yeah vedo che la tua pronuncia sta migliorando yes so my accent is very strong we like the big family the gold family attenzione perché sta per scattare il test della lasagna tra qualche istante finalmente dopo due giorni di lavoro riusciremo a sapere che cosa ha fatto cosa ha prodotto quest'uomo quale esperimento mai sia stato compiuto in questa cucina in questa cucina del Kansas City è vero? vediamo che con cura ormai la lasagna si tuffa da sola nel piatto si tuffa da sola nel piatto che vuole essere mangiata vedete con quale cura il nostro chef la spalma sul piatto la poggia per venino e stiamo andando ad assaggiarla allora sarà lei a testare? da dire che abbiamo fatto la besciamella anzi ha fatto la bescianella il signor Roberto si con burro si farina latte latte e tanto amore è tanto amore che non guasta si si non guasta to love when you do something so we want to try ecco il momento this is my test ecco il momento del test incredibile attenzione attenzione vediamo come il segreto scerfolo si dirà ooooooooh nice 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 incredibile applauso applauso grazie i need to cry now this is for my family dai 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 a chi vuoi dedicare questo momento? questo momento voglio dedicare a tutti i ragazzi che mi conoscono si? è stato un momento di inglese al comune di brolo che ha contribuito ahahah con i soldi e a farci venire qua si porteremo tutte queste esperienze nel comune di brolo e nel comune di pirailo grazie ok direi allora che possiamo concludere o facciamo anche poi l'intervista agli americani che assaggeranno la tua lasagna dopo che assaggeranno la lasagna intervisteremo intervisteremo i ragazzi ti dici pipipo tu eh buono buono qua è una sbobba com'è tu? ma io so ne obiettivare la sbobba anche la mia comunque è buona ecco il mio piatto non lo devo ammirare con un sacco di sbobba perché andrò a mangiare Jack mi sembra contento e tutti noi ci siamo interessati e non ci siamo interessati e non ci siamo interessati il secondo plato buono cosa pensi di la lasagna di Miko? ma io ti dico è il migliore grazie grazie ho il migliore ho il migliore è molto bello è molto bello è molto bello l'ultimo 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 diciamo ciao ciao facciamo un'intervista a queste bellissime ragazze come potete vedere sono due ragazze delle cani adesso io trasferò per loro e vi farò alcune domande ok e trasferisco quando quando parliamo ok vogliamo chiedermi se è un film italiano 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 abbiamo fatto questo il film italiano in youtube per cui i miei amici potrebbero vedere i miei amici anche i miei amici è molto bello 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 happy thanksgiving vediamo se il nostro pubblico vuole fare qualche domanda a queste bellissime ragazze and we want to ask you to you something if you try the lasagna it's so good did you make it? no make it make it amazing amazing chef ok stanno dicendo che sono state veramente ehm molto buone e hanno gradito il piano ok and e what kind of what do you like of Italian people l'italian people l'italian people l'italian people yeah romantic passionate ok perché sono romantici e passionati passionate l'accento 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 è molto sessuale per questo come possiamo notare queste due ragazze non sono veramente americane ma hanno delle bella americana americana bella beautiful americana beautiful americana so American Argentina e cubana l'accento sono sono argentino hanno delle ricani you gotta have something from the south you gotta have you gotta have l'agentino è pubano infatti hanno diciamo che è una caratteristica che a me piace molto perchè non sono biondo sono umore allora è molto bene, devi essere come un host TV sì, piace filmare è molto bene io lavoro in Sicilia TV Sicilia TV International sì, lavoriamo in un piccolo villaggio ti faccio il grafico e ti parlo e faccio un film ci facciamo e ho fatto parte per te ma ho fatto un film stiamo giocando questa è la fine di questa puntata le ragazze sono molto contente ci sono divertite ok? ma sei imbarazzata? no imbarazzata? oh no no siamo un piccolo camera quindi non siamo così bene come tu in fronte no non sono imbarazzata sono abituata qui a Los Angeles insomma diciamo che la camera è uuuuuuuu grazie ora diclo peggi Rați ciao ciao Rom